L'importanza delle vaccinazioni è stata ribadita oggi in un convegno organizzato da Rotary all'Università. Sono tornate alcune malattie che erano state debellate, vuoi per la resistenza agli antibiotici, vuoi per i flussi migratori, quindi il vaccino resta l'unico strumento per combattere le malattie essenziale. Alcune malattie infettive che erano scomparse infatti sono tornate. Tanto per i fenomeni in resistenza agli antibiotici quanto per i flussi migratori le patologie infettive stanno tornando prepotentemente. Parliamo di un esempio estremamente semplice, le previsioni di mercato. Le previsioni di mercato sono a favore di un'esplosione dei danari che gli stati europei e non solo europei dovranno spendere per la cura delle malattie infettive. Quindi è un problema emergente. Concludo ribadendo quello che lei diceva, le vaccinazioni sono importanti. Quando si dice io sono Novax bisogna studiare, non si può dire io sono Novax per partito preso. Oggi si riparla molto del vaccino anticovid. È aggiornata la nuova variante e seppur il covid sia meno pericoloso è importante continuare a vaccinare alcune categorie. La situazione è che magari si sarà anche alleggerito nelle immaginari delle persone però nella realtà cioè circola. Certo è un virus per certi aspetti meno pericoloso di quello che avevamo, che circolava qualche anno fa ma è anche vero che questo è dovuto al fatto che abbiamo fatto un'intensa campagna vaccinale quindi soprattutto nei soggetti a rischio cioè immunodepressi con comorbidità è importantissimo vaccinarsi. Il 24 ottobre come ogni anno in tutto il mondo ricorre la giornata Enpolio Now, malattia terribile ormai radicata in tutto il mondo a parte i casi sporadici nel Pakistan e l'Afghanistan. Sì di fatto oggi è una giornata mondiale per ricordare questo grande successo scientifico. Se le pensi che 20 anni fa c'erano migliori di morti per questa malattia terribile e poi hanno con questi finanziamenti rotariani, anche Bill Gates ha dato grandi finanziamenti, hanno praticamente vaccinato 2 miliardi e 500 bambini quindi prevenendo questa malattia che come sappiamo è una malattia che di fatto dà una paralisi flaccida per cui le persone non possono camminare e a volte anche i muscoli respiratori per i monolesi e con le conseguenze. Quindi oggi è una grande giornata e bisogna che anche i ragazzi, i futuri medici sappiano quant'è l'importanza della ricerca scientifica.